Il Consiglio di Stato ha stabilito che il Ministero dell'Istruzione dovrà procedere alle nomine a tempo determinato e indeterminato dei docenti diplomati inseriti con riserva nelle graduatorie. La decisione che riguarda 700 insegnanti è scaturita ieri dopo il ricorso presentato da un gruppo di docenti assistiti dall'Avvocato Catanese Dino Caudullo. In pratica, i giudici di Palazzo Spada hanno ribadito che l'iscrizione nelle graduatorie con riserva non può impedire, al di fuori del piano straordinario di assunzioni per l'anno scolastico 2015-2016, la possibilità di essere individuati quali destinatari di proposta di assunzione, in quanto il depotenziamento dell'iscrizione con riserva nelle graduatorie non sembra avere fondamento legislativo. Il Consiglio di Stato, inoltre, ha assegnato al MIUR un mese per dare esecuzione all'ordinanza.